buongiorno ragazzi oggi finalmente dopo 10 15 giorni di attesa è arrivato il pacchetto di star feed edizione constellation all'inizio ho avuto pure il timore che non arrivasse in tempo perché logicamente questa edizione ti dà quei sei giorni di anticipo rispetto all'uscita del gioco che il 6 settembre invece con questa diciamo versione si può giocare in versione anticipata di cinque giorni quindi dal primo di settembre alle due di mattina mi sembra sì e niente pensavo che non arrivasse in tempo invece all'ultimo momento la bethesda ha mandato un email dicendo che il pacco era in spedizione in un giorno è arrivato dalla germania vediamo un po di che si tratta facciamo questa unboxing allora abbiamo la scatola un po eccolo qui starfield un po se riesco a toglierlo senza fare casino ecco fatto spostiamo la scatola ok allora live pack interlink ok questi sono tutti ecco come multilinguaggi anche in italiano sicuramente allora ecco la constellation edition perfetto vediamo un po di che si tratta ok vediamo un po cartonato a vedi in metallo carino premium edition ok vediamo un po dentro c'è sicuramente ma ecco la chiavetta questa questa chiavetta è diciamo quella per inserire il codice del gioco per l'attivare ok non c'è altro credo un po vabbè ci sono le istruzioni sicuramente multilinguaggi anche il pad si può usare la versione xbox io ho il pc vuoi installo su pc diciamo ok vabbè questo è in tedesco però c'è anche in italiano fatti attiva il tuo gioco italiano perfetto vediamo cosa c'è altro scatoletta dovrebbe contenere tutto il resto della costellazione carina scatola bella stretta allora ok vediamo un po che si tratta allora e girare un pochino ma carina ecco qua contiene l'orologio carino orologio studiare come vediamo un pochino di che si tratta messo proprio bello incastrato ok simpatico questo c'è anche forte ok l'orologio poi la patch diciamo la da attaccare su una ipotetica tuta ecco qua c'è il caricatore tutto quanto funziona proprio un orologio che funziona davvero col suo caricatore carino ok ok qua le varie spilline questo sempre per l'orologio molto probabile ma il cronografo proprio ma vedi si connette con il telefonino ah simpatico ok ok e qua i ricambi vabbè altre questo è fatto di un altro materiale in stoffa sembra invece questo è fatto in caociù ok perfetto carino non credevo che fosse invece una versione funzionante diciamo simpatica perfetto ma sono contento poi logicamente lo installerò lo proveremo farò un video vediamo un po' di che si tratta ok questo lo rimettiamo al posto se riesco che questa è una volta che escono poi ok vediamo un po' anzi era al contrario l'avevano messo perfetto ecco lo mettiamo così ecco fatto ok carina la schiatola qui non credo ci sia altro no semplicemente ok ok non c'è altro tutto qui tanto la chiave di gioco sta nella custodia ok questo quindi si gira e si chiude carino simpatico perfetto niente ragazzi questo è tutto ora devo solo installarlo e logicamente provarlo poi farò un video il gioco sarà sicuramente fantastico non vedo l'ora insomma un bel un bel un bel case questo carino mi piace anche da da collezione ovviamente e via spero che il video vi sia piaciuto e niente ci vediamo alla prossima arrivederci a tutti